A un anno dalla nascita della Fondazione Ispro, la Regione Toscana intende promuovere e far conoscere ancora di più l'attività della Fondazione che ha come obiettivi la raccolta di fondi contro il cancro e il sostegno alle attività dell'Ispro, nato nel 2018 dalla fusione tra Istituto Toscano Tumori e Istituto per la Prevenzione Oncologica Ispo. L'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi ha ricordato i traguardi già raggiunti tra iniziative di divulgazione scientifica in tutta la Regione ed eventi come il trofeo Mare Terra Vita dello Yosh Club di Punta Ala che ha permesso di attivare nel 2018 una borsa di studio sui temi di oncologia e sport. La Fondazione Ispro che ha trovato il suo punto di riferimento nell'Istituto per lo studio e per la prevenzione oncologica che oggi mette insieme le vecchie funzioni dell'Ispo e le funzioni dell'ITT è una fondazione che lavora per dare alla rete oncologica gestita da Ispro strumenti e valori in più. Il direttore di Ispro Gianni Amunni ha ricordato che la fondazione, nata per sostenere l'Istituto, ha enormi potenzialità in una regione animata da una grande volontà di sostenere la sanità pubblica e la ricerca oncologica con degli scopi ben definiti. Promuovere la prevenzione, promuovere gli stili di vita, aiutare i percorsi di cura, promuovere la ricerca. La fondazione ha la possibilità di raccogliere fondi, la partecipazione della gente a queste iniziative. Nel 2019 sono già in fase di programmazione nuove iniziative in aggiunta a quelle già rodate come la corsa podistica Ispro Run che si svolgerà a Firenze entro la fine dell'anno.